Nel nostro gruppo, che era quello sulle Smart Communities for Smart Cities, abbiamo riscontrato soprattutto una grande voglia di portare delle proprie esperienze, c'era una serie di domande che erano state poste nell'open paper, abbiamo avuto una serie di interventi, un pochettino siamo andati sulla presentazione delle aziende ma abbiamo cercato di rottare da questo, rapidissimamente sono alcuni degli elementi che sono venuti fuori, quindi esperienze per esempio portate Smart Italian Startup Scene su Facebook, un gruppo molto attivo che parla degli start up dei giovani, altra proposta è la co-on-petition, parole nuove diciamo di linguaggio la smart rural lay participation, la collaborazione delle PMI, non usare la parola virtuale che rende le cose lontane e non reali andare a guardare per esempio c'è una smart community diciamo invisibili, ingegneri, architetti, molto molto attiva che vede come grandissima difficoltà la governance di tutto il sistema, pannelli informativi che sono stati installati a Roma in altri posti, ci hanno presentato dei progetti, problema dei soldi, problemi dell'interattività, cioè il fatto che sono belli i servizi interattivi se qualcuno risponde, però non soltanto se vengono forniti dei dati e poi non c'è nessuno che possa rispondere il coinvolgimento, che le persone siano le stesse quando sono fuori, quando sono dentro, quindi non tweetino soltanto quando sono in macchina che stanno andando in ufficio e poi in ufficio ritornino a essere dei burocrati che non hanno alcun tipo di dialogo innovativo, il problema è evidentemente del finanziamento di tutte le innovazioni facilitare i processi di interscambi in tutti i campi, perché anche nel campo del turismo esistono tanti contenuti concentrarsi sui bisogni e ascoltare quello che dicono i bisogni. Per sintetizzare questa carrellata che noi abbiamo notato essere molti che avevano delle cose da dire, delle cose da portare, innovazioni interessanti utili da condividere, talvolta perché erano delle imprese che giustamente volevano fare business, talvolta perché erano delle idee o dei suggerimenti di cose che esistono, noi abbiamo trovato una forte necessità di comunicare, quindi di trovare un luogo, questa volta non posso più usare virtuale, allora digitale, informatico, dove potersi scambiare le cose con una governance che guidi questo processo in forma interattiva reale, cioè che le persone che sono da una parte dall'altra del tavolo possano rispondersi e comunicare davvero, evidentemente le forme poi sono da individuare usare le cose che esistono, cioè non andare a inventare nuovi network, nuovi sistemi perché ci sono già tanti e anzi semmai metterli a sistema in un'ottica di inclusione e di favorire la partecipazione anche delle persone che non sono abituate a questi metodi. Quindi in un certo senso per noi è stato un riflesso del processo di Smart City che va ulteriormente sviluppato ed integrato, è un pezzo che dobbiamo ancora in qualche modo migliorare di nuovo con l'aiuto di tutti quelli che partecipano e vorranno partecipare, perché sicuramente è emersa la necessità di evidenziare meglio e mettere meglio a sistema tutte le ricchezze enormi che ci sono nell'innovazione in tutti i campi.